Io tenterò di entrare gratis No, non sono i miei eroi Carlo! Ma io stavo sul blog per noi E' vero, lei spiega sempre Ma pure risposta al commento Carlo, tenai, rifugio Carlo, devi andare a lavorare Deve chiudere Ho fatto un caso da qui E' un testo C'era una cosa C'era una cosa C'era una cosa C'era una cosa